A Palermo il Teatro Garibaldi Politeama è pronto per ospitare lo spettacolo del 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo. Nel capologo siciliano è la quattordicesima edizione, con la fiaccolata in piazza e poi lo spettacolo per chiedere diritti e tutele per tutte le persone autistiche. Un'occasione per raccontare i bisogni del mondo legato all'autismo, le conquiste ottenute dopo anni di lavoro e battaglie, come protocolli e aperture di spazi inclusivi insieme alle istituzioni. Da vent'anni Rosi Pennino, oggi assessore ai servizi sociali del comune di Palermo, lotta per affermare i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie. È impegnata in prima persona nell'organizzazione dell'evento e ricordiamo che ha fondato l'associazione Parla Autismo, di cui è stata presidente. È una giornata che è iniziata per stare insieme tra famiglie e che poi invece si è trasformata in una cornice istituzionale straordinaria che porta anche il sigillo del Presidente della Repubblica e che si sviluppa all'interno del Teatro Politeama con di fatto una scommessa straordinaria. Cioè i ragazzi e i bambini con autismo, che lungo il percorso che dura un anno si preparano per arrivare a questa giornata, un percorso fatto di campagne di sensibilizzazione delle scuole e di performance che i ragazzi e i bambini preparano, salgono sul palco del 2 aprile e sfidano l'autismo. Per un soggetto con autismo, entrare in un posto così pieno di gente, realizzare una performance e sfidare l'autismo è qualcosa di straordinario. C'è tanta strada ancora da fare, ma qualche risultato è stato raggiunto. Per esempio l'ASP di Palermo ogni anno mette da parte alcune somme dedicate ai servizi per i bambini autistici. Da qualche giorno, ma questa notizia la daremo il 2 aprile, lo 02 si è trasformato in 03. e quindi le risorse sono state anche implementate.